venerdì 19 aprile 2019 costruiamo un heavy single di squat snatch quindi uno squat snatch pesante ma non fino al nostro massimale poi nove minuti per fare un ladder dove avremo un ring muscle up uno squat snatch due ring muscle up due squat snatch tre ring muscle up tre squat snatch e così via fino ad arrivare ai 9 minuti per questa settimana direi che è tutto ci rivediamo lunedì per un'altra settimana insieme naturalmente buon weekend